State pensando di voler provare il giallo nel TCG di One Piece? Desiderate testare un leader che non sia Katakuri, ma che allo stesso tempo possa essere in Tier 1? Quale personaggio potrà rispondere appieno a tali esigenze servendosi dell'intero arsenale di questa tonalità presente da OP03? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ci avviciniamo ad OP06, ma nel meta attuale, oltre ai tipici Kata e Saka, un altro leader proveniente da Skypiea ha fatto parlare di sé. Si tratta di Enel. Assieme ai suoi vassalli, l'elettrico di certo ha detto la sua, incastrando giocate meravigliose che anche nei tornei di caratura maggiore ha permesso a chi ne ha vestito i panni di portarsi a casa vittorie importanti, calcolando che, oltre agli effetti di ogni carta presente nel deck, anche l'abilità dello stesso leader ha contribuito a dare manforte alla forza di questa profile. Nel video di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendone le caratteristiche che lo renderanno così pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del dio del tuono versione rapper. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che, in media, il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritta al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Enel Giallo. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto, anomalo per un monocolore, vi permetterà una volta per turno, durante il turno avversario, di piazzare la prima carta dalla cima del mazzo nella vostra pila delle vite, se quest'ultima scenderà a zero elementi, scartando di seguito una carta dalla mano. La decklist in questione riporterà chi è appassionato anche del manga nella saga dell'Isola del Cielo e vedrà il quartetto di Shura, Capone, Holly, Home, Satori, Gedatsu, Enel Rush, Katakuri, Costootto e Yamato, assieme al tris di Shiraoshi, Brulì e Sanji Blocker, con la coppia di Coins per il lato character e il tris di 200 Million Vols Amaru per gli event, che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro gli Shura, gli Home con Holly, i Sanji, gli Enel Rush, i Gedatsu, i Colossi, Saka e Yamato, assieme a tutti gli event. Mentre il resto servirà per andare a limitare il potere aggressivo avversario, smorzando eventuali fonti offensive come il trigger di Capone o Brulì, o ritrovando forze fresche direttamente dal deck, attraverso l'effetto main di Shiraoshi. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra i già menzionati Holly e Home, che a costo 4 vi permetterà di impiegare due character in gioco potenziando così la manovra di attacco del deck, o l'utilizzo delle Amaru che, se possiederete una vita o meno, andrà ad esaurire dei blocker fastidiosi come Borsalino Nero, che si frapporranno tra voi e le vite rivali, potenziando allo stesso momento un character o leader sotto il vostro controllo di ben 3000 punti. Altro elemento utilissimo sarà Enel Rush, che rappresenterà una vera e propria spina nel fianco per chiunque se lo vedrà giocare contro. Infatti la controparte personaggio del leader, quando sarà costretto a lasciare il campo, vi darà la possibilità attraverso il suo effetto di privarvi di una vita mantenendolo in gioco. Unico aspetto che vedrà vanificare quest'ultima abilità sarà la presenza di un character con nome Monkey Diluffi sul terreno. Per dare ancora più pressione alle difese avversarie, la presenza di Katakuri Kostootto e Yamato vi permetteranno rispettivamente di giostrarvi la situazione vite a disposizione, scegliendo di rimbalzare un personaggio rivale o proprio, magari un capone, che all'occorrenza potrà tornarvi utile. Mentre la figlia di Kaido, oltre a distruggere un pezzo sul terreno con costo pari al numero di vite disponibili sul campo avversario, vi permetterà di piazzare una carta dalla cima del deck alla pila delle vostre vite, rimandando ancora di più la sconfitta, riorganizzando i ranghi per una controoffensiva che, per chi vi giocherà contro, risulterà fatale. Ultimi, ma non per importanza, saranno di sicuro i Satori, che all'occorrenza potranno tornarvi utili sia in fase difensiva, come counter più 2000, che in attacco grazie al loro trigger. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Enel sembrerebbe a primo impatto semplice da utilizzare, ed in effetti è così, o almeno lo è più di Katakuri. Dovrete comunque avere una visione di gioco molto ampia, calcolando ogni mossa nel migliore dei modi, soprattutto in relazione all'effetto del leader. Ricordate che se gli avversari riusciranno a prendervi le misure, non ci sarà vita in aggiunta che terrà, quindi controllate come meglio potrete la board, senza dare molto spazio agli assalti rivali. Per la fase offensiva, questo deck possiederà diverse fonti come Olli e Dom, Satori in fase di trigger, Gedatsu, Enel, Sakazuki, Costotto, Yamato e all'occorrenza i Sanji Blocker, magari potenziati con le Amaru. Per quella difensiva avrete i già menzionati Sanji, le Brulì, che costituiranno un primo muro difensivo contro gli attacchi nemici, e i Capone, che se triggerati spegneranno sul nascere eventuali assalti rivali. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo uno Shura, un Home con Olli a seguito, un Blocker qualsiasi ed un Event. Se sarà così potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, Enel non temerà confronti, soprattutto perché, essendo un mazzo di fascia alta, competerà alla pari sia con Katakuri che con Sakazuki. L'unica eccezione comunque sarà fatta per Luffy Viola, che con i suoi colossi vi metterà in seria difficoltà aggirando a suon di attacchi multipli l'effetto del leader. Per il resto non ci saranno deck che vi impensieriranno, ma non sottovalutate mai chi vi giocherà contro. Per la win condition quella che ho testato personalmente sarà apparecchiare quanti più personaggi possibili mettendo sempre una maggior pressione alle difese rivali, specie se ci saranno Katakuri, Accosto 8 e Yamato, che oltre a togliere di mezzo degli elementi avversari, vi aiuteranno anche ad aumentare il livello di aggressività dell'intero deck. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno tutto il reparto vassalli, quindi Shura, Om, Satori e Gedatsu, il Cagnolone, Enel Rush, Capone, Sanji, Yamato e gli Event. Per il resto, visto profile, non giocare neanche un Katakuri, altri utilizzarne uno, qualcuno che ha azzardato con risultati di successo l'esclusione delle Shiraoshi e le Coins e molti altri esempi che potrete trovare nell'Ethere. Spetterà, come sempre, a voi decidere quali character includere nella vostra lista personale. Infine, per la fase Counter, avrete a disposizione 10 più 2000 e 27 più 1000, che potrete utilizzare nel migliore dei modi, soprattutto nel late game, dato che, grazie all'effetto del leader, avrete un riciclo di vite sufficiente per sventare di base due assalti rivali. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Enel parte per secondo e ho visto giocatori più esperti di me non avere timore nell'andare a prendere vite quando necessario, cercando di favorire sia l'effetto dello stesso leader che Diom. Quindi, a seconda dell'avversario, regolatevi di conseguenza e controllate la board come meglio potrete per evitare che attacchi massicci vanifichino l'innesco dell'abilità dell'elettrico. Concludendo, Enel è entrato di prepotenza nel meta di OP05 grazie all'arsenale presente da OP03, giovando di elementi importantissimi come Katakuri, Sanji, Capone e Yamato, che assieme ai vassali fedeli al dio del tuono hanno dato la possibilità a quest'ultimo di guardare dall'alto una tier sempre più ricca di pretendenti, fulminando qualsiasi ostacolo gli si parasse innanzi. E voi avete mai testato le dinamiche che muovono questo nuovo deck? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere state in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.